Io vorrei subito però partire con le immagini in diretta da Trieste per raccontarvi come il fenomeno dell'immigrazione che comprende sia le persone che arrivano e quindi il grande tema dei salvataggi in mare sia per le persone che poi sopravvivono a quel lungo viaggio arrivano qua e guardate che cosa succede a Trieste, Isabella Ciotti abbiamo scelto questo caso perché ieri ne ha parlato anche il ministro Piantedosi allora a Trieste, ora, che cosa accade? Dove sei? Sono al Silos di Trieste questa espressione a Trieste la conoscono tutti il Silos è questo deposito, lo hai anticipato prima adiacente alla stazione centrale di Trieste per chi abita qua è un fatto noto non lo è per chi non vive qua e non vive qua tutti i giorni anche perché è un luogo invisibile è un deposito dell'Ottocento abbandonato e le persone che arrivano in stazione neanche possono immaginare che cosa c'è qua quello che c'è qua, te lo facciamo vedere è una specie di sala all'aspetto infernale, una sala d'aspetto veramente una sala d'attesa per i migranti che arrivano dalla rotta balcanica fino in Italia uso questa espressione perché è esattamente l'espressione che descrive il limbo di chi arriva e si trova ai confini italiani e spera di rimanere qua e non ci riesce in tutte queste tende che ora vedi noi parliamo piano proprio per questo ci sono migranti che dormono sono migranti che arrivano principalmente dall'Afghanistan dall'Iraq, dalla Tunisia dal Pakistan, dal Bangladesh ce ne sono circa una settantina oggi perché come ha spiegato il ministro Piantedosi ieri una cinquantina di persone sono state trasferite qual è il punto? che non è mai un passaggio veloce purtroppo si parla tantissimo della rotta balcanica e diciamo sempre quando parliamo della rotta balcanica che queste persone sono persone che tendenzialmente non vogliono rimanere in Italia quindi sono transitanti, persone di passaggio non è così per tutti c'è una quota di migranti che vuole fare domanda ed è la quota di migranti che sono qua a dormire in questo deposito in questo momento bisogna chiedere una cosa sono tutti irregolari non parliamo di irregolari sono persone che sono passate dalla costura di Trieste che hanno firmato un modulo e hanno chiesto hanno spiegato che sono richiedenti asilo e sono tutti in attesa di entrare nel sistema di accoglienza italiano a Trieste ci sono due centri di accoglienza che hanno una capienza in totale di circa 200 persone e si riempiono molto facilmente quello che vedi è il prodotto di questa attesa cosa succede? i migranti arrivano si autosegnalano in questura ma non c'è il posto nei centri di accoglienza quindi trovano dove vanno vanno in stazione e questo è il primo punto di approdo ci sono delle tende alcune sono anche vuote perché alcuni sono riusciti ad andarsene e alcuni rimangono qua per molto tempo proprio perché i centri di accoglienza sono pieni ci sono delle associazioni come sempre di volontari che aiutano è enorme questo posto che compilano delle liste che cercano è enorme e come vedi è nel degrado totale ci sono adesso Alessandro ti mostra le tende ci sono chiaramente resti di vestiti di scarpe tutte le cose che sono state portate lungo questo viaggio dai migranti alcune tende vedi ci sono sono ferme sono state fermate con dei sassi più avanti adesso ti ci portiamo c'è un ragazzo che ha acceso un fuoco anche se qua purtroppo è un po' pericoloso per riscaldarsi si cucina si vive qua e come vedi questi sono tutti diciamo i resti del passaggio di queste persone un passaggio che qua può arrivare fino a tre mesi di tempo ci sono persone che sono state qua per tre mesi ci segnalano che di notte ci sono ragazzi che sono stati morsicati morsi dai topi perché ci sono chiaramente stiamo parlando di un deposito abbandonato cioè sono soltanto non ci sono servizi igienici questo sa va a san dir queste allora rimani lì un istante non ci sono servizi igienici con il rispetto del caso se qualcuno ha voglia di raccontarci qualcosa in più ma questo è il classico caso in cui come dire le immagini sono un editore